Abbiamo l'appuntamento nelle piazze e buona campagna elettorale. Aiutateci col vostro calore. 11 che in un certo senso sono 12 tappe, 1000 km, 6 tonnellate di passione. Portate in giro per tutta la regione Lombardia. Un track che fino a prima di questa avventura non sapeva essere altro se non un camion molto grande che girerà la regione per raccontare il nostro progetto di Lombardia. Ricorda un po' il camper di Renzi, non sarà mica diventato rotta amatore anche lei? In tutte le epoche una campagna elettorale ha avuto un mezzo di locomozione per servirla. Direi che da qui a fare altre considerazioni ne passa. Noi abbiamo parlato dall'inizio della campagna per le primarie di rigenerazione. È un concetto diverso da quello di rotta amazione ma ha in comune con quello la volontà di una generazione intera di assumersi la responsabilità di governo invece di essere scusa. Siamo stati gli unici a ipotizzare e anzi a rendere concreto il fatto che qualora semplicemente rinviati a giudizio i candidati del centro-sinistra si debbano dimettere e mi sembra che Roberto Formigoni da un lato e la Lega dall'altra non abbia mai fatto altro che non parlare di giustizia orologeria, garantismo, terzo grado di giudizio come se non ci fossero da garantire anche i diritti dei cittadini. Ragazzi fa veramente freddo, fa proprio parecchio, ma non è sempre così a vigevano.